C'è stato di fatto un sorpasso nel toto allenatori per la nuova San Giovannese in vista della prossima stagione. A fronte di Baiano, che rimane in stand-by, infatti, si registra un innalzamento delle quotazioni per Riccardo Rocchini, attuale vice di Marco Baroni a Benevento, ove ha completato la stagione con l'ormai inevitabile retrocessione in Serie B dalla massima divisione nazionale. Rocchini è ancora sotto contratto, ma pare più che possibile un passaggio di consegne sulla panchina giallorossa con l'arrivo di Bucchi e la rescissione, quindi, nei confronti dello stesso Baroni e del suo staff, Rocchini compreso. Così, il già difensore del Montevarchi e della Rondinella, ai tempi delle sfide della C2, dopo il ritorno nel professionismo da parte del Marzocco, costituirebbe valida alternativa per il ruolo di successore di Iacobelli. Si avvicina, invece, la resa dei conti per un altro dei nomi in corsa per quel ruolo, ovvero Enrico Gutili, attuale allenatore della Sestese. Il suo nome è molto in alto nel gradimento globale del direttore generale Nicola Del Grosso, ma fino all'8 giugno sarà difficile poterlo scegliere, perché in quel giorno si conosceranno le sentenze del processo sportivo che ha creato scompiglio nell'eccellenza toscana e la Sestese, con diversi tesserati, allenatore compreso, è una di quelle considerate come maggiormente coinvolte in negativo. Verosimilmente, dunque, quel giorno segnerà anche una sorta di spartiacque e, forse, fino appunto a dopo tale data, non potrà essere ufficializzata la scelta del trainer in casa sangiovanese.